ciao e benvenuto su scuolasuono.it oggi ti presento una nuova video guida di Gabriele Cento ti presento infatti la video guida sulla powerplay amplificatore per cuffie della Behringer un mitico strumento perché veramente costa poco e ci puoi fare anche il caffè nel senso che ha tante funzionalità molto interessanti pensa che addirittura questo stesso oggetto l'ho incontrato in uno studio molto professionale ma sicuramente ce l'hanno tutti dalla powerplay la powerplay è mitica perché serve in live serve in studio è uno strumentino utilissimo quindi l'ho incontrata anche allo studio angelswing di che sarebbe angelswing non angelswing angelswing del mio amico Nico Odorico che si è fatto intervistare dal sottoscritto rilasciando una bellissima intervista anche molto pregna di contenuti di didattica per i miei allievi all'epoca della scuola di recording per musicisti di scuolasuono.com ancora e se ti interessa approfondire tra l'altro gli argomenti di home recording e di altre cose ti invito a visitare le varie pagine che trovi al di sotto di questo video comunque stavo dicendo che Nico Odorico questo mio amico fonico bravissimo tra l'altro è un grandissimo professionista con dei grandissimi macchinari anche lui ha due powerplay all'interno del suo studio e ci fa proprio gli ascolti dei musicisti passano cioè da Pro Tools arrivano là ed andavano in sala in sala di ripresa insomma con delle prese dedicate quindi sicuramente è uno strumento utile ho deciso di spendere qualche parola in più su questa videoguida per raccontarti come io stesso ho cercato di impiegarla in modi davvero più strani questo cioè nasce è un amplificatore per cuffie io l'ho comprato perché avevo bisogno di fare una registrazione dalla mia regia cameretta alla cucina della casa di mia nonna c'erano una decina di metri le scale dovevo registrare una chitarra e avevo questa necessità l'ho comprata tra l'altro mi sono lamentato con chi me l'ha venduta dicendo ma come costa abbastanza a me serviva solamente un canale per una cuffia sola cosa me ne faccio di quattro io mi ho detto no no prenditela prenditi questa che vedrai e vabbè insomma io avevo urgenza alla fine ho speso questi soldi vabbè tienteni e io mi prendo sto ampli per cuffie che chissà se mai utilizzerò invece mi sono dovuto ricredere perché veramente ha molte e molte funzionalità interessanti e quindi alla fine del video di approfondimento che ti consiglio assolutamente di vedere la parte di approfondimento realizzata da Gabriele Cento troverai anche una piccola appendice fatta dal realizzata dal sottoscritto in cui ti racconta gli usi stravaganti che ha fatto lì in questo oggetto buona visione di questo video e del video di approfondimento ciao da francesco un saluto a tutti gli amici di scuola suono punto it ed appassionati di recording sono sempre Gabriele Cento vi parlo del mio home studio di milano puoi visitare la mia pagina profilo scuola suono per ulteriori informazioni in questa video guida parleremo della behringer h 4007 di cosa si tratta cos'è la powerplay h 4007 essenzialmente un amplificatore per cuffie ma estremamente utile il principio di funzionamento è piuttosto semplice la powerplay riceve in ingresso un segnale mono o anche stereo e lo distribuisce su quattro canali indipendenti questo cosa significa che dato un ingresso un segnale principale quattro diversi musicisti potranno in maniera indipendente collegare una cuffia e personalizzare il proprio ascolto in termini di volume ma come vedremo nei video di approfondimento non solo del volume come vedremo ciascun canale è dotato di diverse funzioni che consegnano all'utente un controllo praticamente totale sul suono tutto ciò è certamente un vantaggio pensiamo a quanta indipendenza guadagniamo rispetto al fonico sia in contesti live quindi sul palco dove si presentano la maggior parte dei problemi legati all'ascolto ma anche in studio in sala di ripresa dove sarà possibile gestire in maniera molto indipendente il livello di ascolto e altri importantissimi parametri la powerplay h 4007 è concepita per essere adattabile infatti come potremo vedere poi nel video di approfondimento è dotata di prese di diverse tipologie che facilitano all'utente le connessioni tra la powerplay stessa e le apparecchiature che ad essa in qualche modo verranno interfacciate proprio le connessioni sono uno dei punti chiave della powerplay ci consentono infatti di mettere ad esempio in cascata diversi apparecchi o addirittura di disporre di ingressi ed uscite servobilanciate quindi come possiamo immaginare questo pone la 4007 della berger ad un livello di elasticità notevole soprattutto in base alla fascia di prezzo che la comprende nel prossimo video scoprirai tutte le caratteristiche che renderanno la powerplay indispensabile nel tuo studio o anche nel tuo service ti ricordo però che per accedere al video di approfondimento dovrai effettuare la registrazione gratuita grazie a tutti grazie a tutti